Per la terza puntata della telenovela degli scuolabus vi presentiamo un sensibile miglioramento sul fronte torna non torna quando torna fermo restando le gravissime mancanze della ditta tunda per l'avvio di questo servizio cosa che gli è costata tra l'altro una richiesta danni da parte del comune e forse questo l'elemento confortante di questa terza giornata campale del trasporto scolastico sarcasmo a parte anche oggi con le nostre telecamere abbiamo seguito i pulmini con a bordo i loro piccoli occupanti nel tragitto di ritorno vera spina nel fianco di questa vicenda sì perché ormai più che la raccolta dei piccoli studenti che possiamo dire ormai stabilizzata ora quello che rimane da mettere a punto è la tabella di marcia e la riconsegna dei bambini in tempi accettabili e che non costringa i genitori a fare il toto ritorno come potete vedere partito dalla scuola di Carrara il pulmino una volta caricati gli studenti con l'aiuto del tutor messo dal comune all'interno del pulmino si avvia alla riconsegna in tempi accettabili allora siamo tornati qui vicino a cucurano babbo in attesa questo giro come come andrà il terzo giorno speriamo bene meglio sicuramente meglio di due giorni fa che l'organizzazione ha lasciato molto desiderare ieri a che ora sono arrivati ieri era l'una e quaranta l'una e mezza a che ora sono qui solitamente dovrebbero essere qui solitamente a luna e un quarto arrivano solitamente adesso sono per adesso sono le luna e venti ora ancora accettabile ancora accettabile i servizi educativi in una nota diffusa nel pomeriggio assicurano che continueranno a monitorare l'operato della ditta tundo e che permarrà la presenza degli assistenti agli autisti sui pulmini per tutto il tempo necessario a che la situazione si normalizzi inoltre l'assessore mascarin ci ha assicurato nella mattinata che altri mezzi andranno a rinforzare quelli già esistenti su tutte le linee degli scuola bus